La Fondazione Carima chiude il 2023 guardando al futuro e apre a nuovi ambiti di intervento. Nel documento programmatico pluriennale 2024-27 si aggiungono due grandi questioni ineludibili e cruciali per il nostro futuro, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, argomenti che sono al centro dell'agenda europea e mondiale per i quali la Fondazione Carima ha deciso di destinare maggiori attenzioni e risorse economiche nel prossimo quadriennio. Per dare conto di questa importante novità ha promosso la tavola rotonda dal titolo Obiettivi di cambiamento, un momento di confronto con la propria base associativa e rappresentanti delle istituzioni locali, c'era anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e i principali stakeholder. Abbiamo fatto questo mini seminario qui proprio per, anziché farlo nell'interno, proprio per sensibilizzare la costa ai problemi dell'interno, perché solo così riusciamo a camminare insieme, perché se ognuno pensa proprio a Orticello non va bene. La sostenibilità e la tutela dell'ambiente, forse è anche un po' troppo sulla bocca di tutti e poi non se ne fa nulla. Invece è ora forse di iniziare proprio da qui, dove dobbiamo ricostruire, ricostruire in una maniera adatta all'ambiente in cui si va a riedificare. L'incontro presso l'Aditorium San Francesco a Morrovalle ha visto la partecipazione del senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, del professor Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico, di Silvio Barbero, presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Filiera Futura e vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Cuneo. Che rapporto c'è tra la produzione agricola e la tutela e difesa del paesaggio? Ecco, questi sono i grandi interrogativi su cui noi dobbiamo muoverci e la transizione ecologica è proprio questo. Se noi sapremo recuperare modi di lavorare la terra che ridiano fertilità ai terreni, ridurre in modo drastico l'uso della chimica, recuperare la biodiversità animale e vegetale e lavorare per un'agricoltura che sia rispettosa dei tempi dell'agricoltura e non un'agricoltura troppo intensiva, allora inizieremo attraverso il cibo quella che è una vera e propria rivoluzione culturale che ci può portare a ridurre tutte quelle situazioni che hanno determinato la crisi climatica a cui noi assistiamo. Quindi il cibo e l'alimentazione sono l'elemento centrale di questa transizione ecologica. Tra gli interventi anche il professor Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Multisibilini, e Iuri Basilicò, che ha portato la sua testimonianza come fondatore dell'Associazione Basentiero. Come tante cose belle è nato in maniera casuale, dalla casuale scoperta di questo lunghissimo sentiero, il Sentiero Italia, che è una sorta di autostrada verde che connette tutte le montagne italiane, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sardegna, quindi facendo tutte le Alpi e l'Appennino. Era un sentiero dimenticato, così come spesso sono dimenticate le nostre aree interne, e da qui è nata la progettualità di una spedizione che lo percorresse, lo documentasse, insomma accendesse i riflettori a modo nostro sulle aree montane del paese. Obiettivi di cambiamento, le conclusioni di una giornata intensa voluta dalla Fondazione Cari, ma in questo dibattito che ha lanciato tanti stimoli? È una giornata straordinaria, che ci ha restituito a fine serata degli spunti di riflessione davvero formidabili. Ora sta a noi portarli a casa nostra, dentro la Fondazione, per tradurli in azioni concrete sul territorio. Si può e si deve cambiare. In premessa ho ricordato nel mio intervento che Winston Churchill diceva «Cambiare non necessariamente equivale a migliorare, ma per migliorarsi occorre cambiare». Ecco, questa è una buona cosa che noi dobbiamo acquisire, metterci a pelle, per far sì che la Fondazione continui a migliorare. Con azioni concrete, come dicevo poc'anzi, aiutare le amministrazioni, aiutarle nella salvaguardia del territorio, aiutare i parchi che insistono nella nostra provincia, perché sono un grande motore di sviluppo. Si deve cambiare a tutte le età e non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.